Musica Si sono il piccolo ruby, non sono in piedi per la mia puntata libri di merda ma volevo parlarvi di Stephen King come saprete io sto amando Stephen King adesso mi sono preso una pausa per dedicarmi alla letteratura erotica tra un po' vedrete qualche video riguardante questo che registerò subito dopo sperando che il cellulare non mi muoia io registro in condizioni veramente pietuose con un bastone di selfie mezzo scassato ed un cellulare vecchio ma chiudiamo parentesi allora prima di incominciare il video vorrei fare una premessa io non sono un esperto di cinema, non sono un critico sono solamente un deficiente che guarda un film e dice si è bello e brutto non mi intendo di sceneggiatura, di costumi, di attori non ho conoscenza di questa cosa quindi io non uso questi termini perché andrei a parlare di qualcosa che non so allora il più grande capolavoro di Stephen King è stato IT è stato ed è ancora IT considerato il suo capolavoro consta di mille e passa pagine nel 1990 voi magari non c'eravate ancora perché quelli che mi seguono sono veramente molto giovani ma non tutti uscì la miniserie televisiva divisa in due parti che durava circa che dura perché potete trovare anche il DVD 180 minuti circa che è divisa in due parti quindi avete il lato A e il lato B del DVD il film spaventò chiunque ha spaventato anche i sassi e ha spaventato anche i muri non il film in sé ma già guardando la locandina voi se guardate la locandina già vi fa venire la pelle d'orca magistrale e spaventosa angosciante creepy è stata la scena del tombino io infatti in questo momento sta piovendo e ho paura ad avvicinarmi ai tombini rendetevi conto dove praticamente c'è questo bambino con la barchetta la barchetta che cade nel tombino appare il pagliaccio che gli dice perché non mi dici ciao e quant'altro quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando purtroppo e questo ha innescato in tutti noi la pagliacciofobia come la chiamo io o la clownfobia ovvero la paura di questi esseri di questi pagliacci di questi cosi io non sono mai andato in un circo a parte il fatto che io sono contrario il maltrattamento degli animali nei circhi sinceramente ma proprio perché non volevo imbattermi in un clown qualcuno ha avuto la brillante idea di rifare un remake di questo film di questa miniserie televisiva la miniserie televisiva uscirà in questo periodo a settembre esattamente l'8 come diceva l'articolo adesso non so esattamente hanno scelto un attore che sinceramente non fa paura ma questo poi lo andremo ad approfondire e il film sarà evitato ai minori di 17 anni che dovranno essere accompagnati dai genitori perché permetterà al regista di mettere quelle scene che sono state comunque tagliate la miniserie televisiva fa paura ha delle differenze comunque rispetto al romanzo però non è stata fedele proprio perché le differenze sono macroscopiche perché per chi ovviamente ha letto il romanzo io avendo letto solamente un pezzo non posso dirmi magari quando leggerò il romanzo quando recupererò il film sì così mi faccio rievocare la paura dei pagliacci della pioggia dei tombini eccetera poi vi saprò dire in questo momento non so dire se effettivamente sono cose uguali fatto sarà che il film sarà improntato molto sulla fedeltà del romanzo cosa che la miniserie televisiva non ha fatto quindi sarà vietato ai minori di 17 anni mentre le 50 sfumature lo vietiamo ai minori di 14 c'è proprio coerenza portami via ma lasciamo perdere però come strutturare le tempistiche nel senso che il romanzo si il romanzo la miniserie televisiva si giostrano su due tempi ovvero i bambini piccoli quindi i ragazzini che sono che sono negli anni 50 e poi i ragazzi adulti che sono nel 1980 perché sono passati tanti anni non sanno se ambientare i ragazzi piccoli in nei primi anni 80 e poi i tempi da adulti ai giorni nostri ecco se facessero una cosa del genere sinceramente non sarebbe fedele per niente al libro perché comunque il libro è inventato nel 1950 e poi negli anni non lo so allora per quanto mi riguarda io sono contrario a qualsiasi tipo di remake a qualsiasi tipo di rifacimenti moderni perché perché io credo che la miniserie televisiva IT abbia avuto quel successo nel 1990 è stato il suo periodo ed è stato il periodo che è uscito che ha fatto paura appunto e basta perché si deve rievocare ancora un qualcosa si deve anche provare nostalgia perché comunque il film è uscito nel 1990 molte persone forse avevano la nostalgia ma quando è uscito il film si stava bene e quant'altro io sono veramente molto molto contrario a queste cose a questi remake per esempio se io facessi il remake oggi di ok il prezzo è giusto che è stato un successo degli anni 90 io lo guardavo quando ero piccolo no praticamente c'era la ruota che girava e la gente diceva 100 100 100 ecco non avrei lo stesso successo che ho avuto allora perché perché allora era una novità oggi sarebbe un qualcosa di già visto qualcosa di già fatto qualcosa di comunque forzato qualcosa che vuole innescare come ho detto prima la nostalgia dei tempi andati e questo sinceramente è una cosa che non mi piace perché agli anni 90 sono stati gli anni 90 con i loro problemi le loro cose si stava bene si stava male e quant'altro punto e basta cioè il passato è passato lasciamocelo alle spalle non è che dobbiamo continuare a rievocare il passato cioè dovremmo essere proiettati al futuro non al passato cioè veramente il cinema non ha più idee per poter fare qualche altro tipo di film horror cioè ci sono tanti libri di Stephen King che possono essere trasposti in al cinema per esempio Rose Mudder per esempio Christine fare un remake di Christine per esempio non sarebbe male perché comunque il film del 1973 non mi ha convinto più di tanto io ho visto qualche spezzone e sinceramente non ha reso come lo potrebbe rendere oggi no? come oggi un'altra cosa che non mi convince di questo romanzo cioè di questo film scusate è un'altra cosa che non mi convince assolutamente di questo film è proprio il protagonista è proprio il pagliaccio che non fa paura cioè il film punta molto sulla figura del pagliaccio cioè il film fa paura solo se tu guardi il pagliaccio come l'esorcista il film faceva paura solo se guardavi la solo se guardavi la bambina cioè l'effetto puntava proprio su questo non sul film che fa paura ma su quel tipo quel tipo di particolare che ti innesca paura cioè la paura della miniserie del 1980 sta proprio nel fatto che fa paura già se tu guardi la locandina cioè è già spaventosa e nel film si punta proprio su questo sul pagliaccio sulla paura che può fare questo pagliaccio no quando io ho visto la foto dell'attore truccato da pagliaccio sinceramente mi sono messo a ridere perché perché secondo me prima si puntava come ho detto prima molto sul particolare infatti il personaggio del pagliaccio hit Pennywise è veramente molto curato fa veramente molta ma molta paura tant'è che ho scoperto che l'attore che ha fatto il Pennywise è quello che poi ha fatto qualche anno dopo perché penso che il film è dello stesso anno due tre quattro anni dopo mamma ho riperso lei mi sono smarrita a New York e faceva praticamente il metro dell'hotel che poi aveva chiuso di qua di lei eccetera eccetera quindi è ancora la cosa ancora più inquietante quindi si puntava molto su questo oggi secondo me i film horror a parte il fatto che non fan più paura cioè io sono andata a vedere tantissimi film horror in questo momento storico che sinceramente no ma proprio no cioè io sono andata a vedere The Conjuring e mi sono messo a ridere cioè c'erano le tizie dietro che oh mio dio oh mio dio oh mio dio io mi stavo mettendo a ridere perché la parte proprio il demone che doveva fare paura quando compare questo demone sto cosa compare vestito da suora sembrava la nonna di Lady Gaga quando faceva Bad no Bad Romance scusate Aleandro cioè veramente non faceva assolutamente paura perché io penso che i film di oggi si concentrino molto più sulla storia che non sulla sul far paura gli unici film horror che io ho visto e mi sono piaciuti veramente tanto sono stati l'evocazione che era il primo di The Conjuring e Annabelle questi due film sono inquietanti per la storia no perché sono comunque tratti da una storia vera ecco è questo che si fa molto no si vanno a prendere delle storie che sono vere per esempio la storia delle vocazioni piuttosto che The Conjuring sono delle storie vere perché c'erano questi due coniugi che praticamente facevano i demonologi andavano in giro a risolvere insomma questi casi di paranormale insomma quindi già si punta molto su quello il film ti fa paura perché tu pensi che quelle cose siano veramente accadute e poi perché sono stati fatti veramente molto bene sia per quanto riguarda gli aspetti speciali sia per quanto riguarda la suspense e quant'altro un altro il film invece che colpisce molto anche se tu guardi la parte horror quindi la componente horror è Annabelle se voi guardate Annabelle già vi fa paura così come in It voi guardate già il pagliaccio indipendentemente dalla storia indipendentemente da tutto e già vi fa paura è quello che dovrebbe puntare molto il film invece questo non lo fa perché secondo me cioè a parte il fatto che l'attore sembra un uscito da Auschwitz cioè sembra uno veramente potrebbe fare un film sui poveri ebrei deportati durante la guerra perché veramente c'è una faccia oscena e poi il truccato non rende non rende assolutamente come rendeva l'attore che adesso non mi ricordo truccato da It cioè tant'è che ho letto su Wikipedia praticamente quando compariva faceva paura alla troupe e dovevano ancora girare il film perché? perché l'impatto visivo è quello che conta molto secondo me in un film horror io veramente questa cosa non riesco a capire ci sono veramente tanti libri che King ha scritto che si potevano fare dei film e secondo me potrebbero venire fuori anche dei bei film per esempio cose preziose io non l'ho letto la trama è veramente molto interessante potrebbe essere un bel film perché il film perché comunque c'è una c'è una netta differenza comunque tra il film horror e il libro horror di King in questo caso sto parlando di King mentre comunque il film horror fa leva sulla parte horror il romanzo comunque tratta anche altre tematiche come abbiamo visto in Misery per esempio il rapporto tra il scrittore e fan mentre il film si concentra molto su Paul che deve sopravvivere quindi questa parte non viene abbastanza approfondita un altro film è per esempio per esempio It si fa lì si concentra molto sul aspetto visivo del pagliaccio che fa paura il libro parla anche di tante altre cose parla di bullismo parla di parla di crescita parla di rapporto con i genitori e quant'altro io qualcosa mi ricordo comunque il libro non fa così paura come la fa il film cioè il film è veramente fatto secondo me molto bene e il film che uscirà nel 2017 secondo me sarà una grande delusione perché non non fa paura cioè dovrebbe far paura già prima che io guardi il film come ho detto prima dalla locandina o dal comunque effetto che del pagliaccio o comunque in Annabel della bambola che già fa paura quindi io so che ho i brividi già ancora prima di vedere il film invece quello è sinceramente poverazzo cioè io non non lo so comunque andrò a vederlo nel uscirà tipo in questo periodo però sinceramente non mi convince non mi convincono veramente tante cose ho avuto molta più paura a guardare alcune puntate di streghe che non certi film al cinema che sono stati veramente molti imbarazzanti quindi secondo me il cinema il film horror comunque dovrebbero puntare più su altri prodotti più a stupire che non a rendere la nostalgia cioè che non avere l'effetto della nostalgia secondo me bene il video è finito fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere che cosa se avete visto magari il film avete letto il libro grazie se avete visto il video fino alla fine grazie se avete messo un mi piace noi ci ci vediamo al prossimo video ciao